Sembra anche interessante la questione di un'economia che, seppure colpita dalle sanzioni, Natali Tocci però in alcuni settori, diceva Federico Fubini, ha una ripresa. Sì esatto, è una ripresa anche perché parliamo di un sistema autoritario dove tutta la concentrazione e tutta l'attenzione è rivolta a questo quindi anche se poi il resto del paese è in un declino strutturale che questa guerra ha accelerato in maniera drammatica ciò non vuol dire che le poche risorse che hanno non le dedicano interamente a questo sforzo. E quindi quello sforzo con questo ruolo cinese? Assolutamente con questo ruolo cinese e come giustamente diceva Fubini, la Cina di fatto ha un interesse ha una guerra che non sfoci appunto nella catastrofe di una terza guerra mondiale nucleare no, niente di tutto questo, ma in una guerra così come la vediamo adesso vediamo che chiaramente la Cina ne ha beneficiato e continuerà a beneficiarne ma ritornando anche sul punto interno in Russia, a partire da Putin stesso cioè in uno scenario in cui la controoffensiva ucraina riesca a liberare più o meno i territori che sono stati occupati a partire dal 24 di febbraio dell'anno scorso quindi non l'intero territorio quindi non la Crimea naturalmente no, la Crimea, immaginiamoci uno scenario del genere in uno scenario in cui le sanzioni occidentali rimangono uno scenario in cui la Cina appunto è oramai il padrone diciamo della Russia la Russia è una sorta di stato vassallo, la Russia grande potenza stato vassallo della Cina cioè questa è una Russia che è fondamentalmente indebolita ma un Putin che ha iniziato tutto questo in che modo dice vabbè benissimo allora facciamo finta che non è successo niente sono semplicemente morte 250.000 soldati russi ho delle sanzioni devastanti ho il territorio che ero riuscito ad occupare già nel 2014 e adesso mi siedo a un bel tavolo dei negoziati e filmo una pace è questo scenario che rende impensabile appunto la trattativa in questo modo è per questo che giustamente Federico diceva non esiste uno scenario di Minsk 3 di questo ne dobbiamo essere consapevoli chiaro allora ultime notizie di